Comune di Avezzano e Vito Tacconi, il camuscio d'Abruzzo, opera realizzata dall'artista e professor Bruno Moretti. Beh, riservate con la Monte Bacca. Ci troviamo a Monte Salviano, ammiriamo l'area circostante. Qui c'è l'area piccanecca. Monte Salviano, Monte Salviano, teatro della germinazione. Vediamo questa parte, sempre Monte Salviano, a proposito questo. Vediamo da questa parte che c'è, per questa bella parata. la musica èποruzente e il fine della Nichole.